Edizione Zero per il Festival dello Spettatore, un progetto sperimentale che si svolgerà ad Arezzo dal 19 al 23 di ottobre, prima dell'avvio delle stagioni teatrali. A portarlo avanti sarà la rete teatrale Aretina che sperimenterà questa nuova iniziativa, un focus sulla figura e sull'arte proprio dello spettatore. Sarà un susseguirsi di iniziative, addirittura sono 13 appuntamenti nell'arco dei 5 giorni di durata del Festival che va dal 19 al 23 ottobre, un susseguirsi di appuntamenti dove abbiamo sì degli spettacoli cinematografici e teatrali ma anche tutta una serie di incontri, di approfondimento, tavole rotonde, laboratori in cui i partecipanti saranno coinvolti in modo attivo, alcuni con un taglio più filosofico, altri con un taglio più scientifico, altri di preparazione alla visione dello spettacolo, insomma un ricco programma di attività che mette appunto al centro il ruolo dello spettatore. Verranno ad Arezzo gruppi di spettatori da tutta Italia, avremo persone da Castrovillari, da Modena, da Como, verranno tutti qua ad Arezzo, sono appunto circa un centinaio, per confrontare la propria esperienza di spettatori a teatro. Il giorno successivo poi saranno condotti dagli attori di Rete Teatrale Retina e dai danzatori di Sosta Palmizzi in un percorso tra le strade di Arezzo con questa guida particolare degli artisti, quindi sarà un'occasione molto particolare e molto originale insomma.